Ciao a tutti ragazzi, sono Mantis e benvenuti al nuovo episodio di Whatsapp Gears, dicembre 13, questo è l'ultimo Whatsapp Gears dell'anno e vi dirò le prossime news. Allora per prima cosa è arrivato il Gearsmas! In hopes that a sniper strike soon would be there. The juvies were coming with teeth that could shred. Poor little Carmine as he sprinted and fled. With coals a heavy and bare as a scout. This mighty cog team was packing some clout. 25 waves of jingle juvies did fall. Mission complete. Midnight omen skin for all. The swarm were far from done with this Gearsmas Eve. For this poor Gears squad there would be no reprieve. As Carmine celebrated with a quick victory squat, he was split into pieces by a snow shot. As battle ensued, there was no getting down, with deadly insta-chip snowballs flying around. Oscar admired the snowy skin on his gun. He thought of an idea for more festive fun. He saw an imago and set him aflame. And he whistled and shouted and called out its name. Watch as my Gearsmas creation thus grow. Festiveness incarnate, gingerbread imago! Let us top that scoreboard. Let us have a big brawl. Now slay away. Slay away. Slay away all. Ho ho ho! Come personaggi nuovi ci sarà il gingerbread imago, cioè il pandinzenzero, l'imago pandinzenzero. Ci sarà la nuova versione di Oscar, cioè elfo diciamo, l'aiutante di Babbo Natale. E' una nuova skin army che si chiama Palla di Neve, Snowglob. E questo vuol dire che sono iniziati in 12 giorni di Gearsmas. Dal primo giorno, cioè oggi 13 dicembre, fino alle 19 del 14. Per chi giocherà ci sarà l'8 XP bonus. E in più sarà regalato un Lancer con la skin Fiocco di Neve. Da oggi sono anche attive le due modalità che ho anticipato, Jingle Jules e Snowball Fight. Grazie per aver seguito il video, vi auguro una buona serata, giornata, mattinata. Non so che ore siano da voi in questo momento, quindi ciao.